Salmo 127 L'abbandono alla provvidenza di andate a riposare voi che mangiate un pane di fatica al suo prediletto egli lo darà nel sonno ecco, eredità del Signore sono i figli e sua ricompensa il frutto del grembo come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza Beato l'uomo che ne appiena la faretra non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici